Musica Oh 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 sinistra a destra e avanti e indietro sinistra a destra Anna Anna e avanti e indietro Anna Anna abbiamo qualcosa da fare Oh certo balli tutto il giorno e cos'hai fai? Nient'altro Oh è Natale dobbiamo ancora fare delle altre cose Che cosa Julian? Non si può ballare Natale? Ma cosa stai dicendo? Oh no non so prendere qualcos'altro Prenderà le cose che ci sono sulla letterina di Babbo Natale? Non lo so non mi ha risposto Babbo Natale e poi guardando come ti comporti non prenderai proprio niente Ecco ecco lo sapevi non mi aiuti così allora continua a ballare Oh accidenti ma che casatto qui in casa E ma non ci sono gli addobbi e così non verrà Babbo Natale lo saprò Oh no non è possibile non è possibile scapperà non avrò i regali Oh ma che cosa sono queste decorazioni? Ma cos'è carta igienica? Oh no deve essere molto più natalizio così Babbo Natale ci porta i regali E devo fare qualcosa di grande Julian insomma cosa stai facendo? Eh papà cosa stai dicendo? No 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 papà devo fare qualcosa di qualcosa di davvero fantastico delle decorazioni papà Insomma allora tra poco è Natale no? E ti sembra natalizio qui? No 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 mi sembra più non lo so primaverile insomma Dobbiamo fare qualcosa di davvero natalizio così che Babbo Natale verrà e ci porterà tutti i regali Oh Julian mi sembri tua madre Abbiamo ancora un paio di settimane di tempo e poi abbiamo fatto tutto Insomma non ti preoccupare Ecco ecco lo sapevo di stare calmo calmo ecco certo Ecco perché tu porterai i tuoi regali Eh no insomma la dobbiamo portare Oh Julian non c'entrano le decorazioni ok? Devi essere bravo e comunque in seconda è possibile Vabbè comunque la lettera è in cucina se ti interessa Oh papà non è possibile non è possibile Oh ok ok ho trovato la lettera E che c'è scritto qui? Non riesco a leggere? Oh papà Non riesco a leggerla Oh dai puoi leggermelo per favore? Oh dammi qui Allora Che fatica accidenti sempre Allora che cosa c'è scritto? L'albero di Natale Fare i biscotti Ma sì c'è già scritto abbastanza Cosa 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 non abbiamo ancora un albero di Natale? No non è possibile Oh no Oh Julian non ti preoccupare ci penso io Oh accidenti Ah sì sì certo vedo vedo Guarda come ti occupi delle cose Guardi tutto il tempo la televisione o giochi con il tablet Oh pensa all'albero di Natale Oh accidenti pure questo devo pensare Oh Oh questo giovanotto mi ti rimatto Vai in camera tua per favore Dai guarda gioca con il tuo tablet Ok non mi interessa Non è possibile non è possibile Oh certo ora ho perso il gioco Oh e sono già 1-0 Chi potrei chiamare? Stephen? No poi glielo dice Ah pronto? Sì sì sono Julian Ciao Julius Abbiamo bisogno di un albero di Natale Sì dobbiamo pensarci noi perché papà è troppo lazzarone Ci troviamo tra poco? Sì dietro? Ok Sì sì dietro casa nostra Ok a dopo No non è possibile Ma se esco adesso sa cosa voglio fare Cosa devo fare? Far finta di niente Sto curando la tele Tuturutututu Devo andare in garage Devo essere così come una spia Come un agente Devo scivolare qua Così che non mi veda Julian cosa stai facendo là? Stai pulando il pavimento? Con la tua felpa? No no papà ovviamente no Volevo solamente fare un pochino di flessioni Ecco sì perché poi si mangia sempre così tanto Capito? Dovresti farlo anche tu Oh Julian Riesci sempre Ecco 2-0 Ora ho perso di nuovo l'altro gol Oh papà mi dispiace mi dispiace Guarda il gioco Ok? Non guardare me Io vado Su Sì sì Su su In verità vado in garage Poi fuori E vai Ce l'ho fatta Bene 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 Allora prendiamo tutti gli accessori Ma come faccio a nasconderlo? Accidentaccio Vado avanti Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Perfetto Accidenti E ora come faccio? No Ma non posso neanche così sparire Perché sennò puoi chiamare la polizia Quindi vuoi dirgli qualcosa Ma devo pensarci Devo pensarci Cosa posso fare? Papà? Vado un attimo fuori? Ok ok ma torna presto per favore Prima che sia buio Ok allora è andato abbastanza facile Dov'è finito Julian? Aspetta da un sacco E poi i boschi non mi piacciono E poi i boschi non mi piacciono Perché dobbiamo andarci? Ci saranno sicuro le streghe Eccomi eccomi sono qui Julian cosa stai facendo lì? Cosa hai in mano? Sì mi dispiace Dimmi che non hai paura Ecco non è per te ovviamente È una sega Ci serve per tagliare l'albero Perché? Perché Come farei a fare? A tagliarlo insomma Non sono così forte Per spingerlo Ah ok 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 Dai insomma Andiamo di qua Ma sai cosa ti dico Abbiamo bisogno dell'albero Più bello di tutti Così avrò dei regali fantastici Insomma quelli che vorrei Julian Perché non questo albero? Non è carino? Si può insomma Ci si può arrampicare sopra Non sarebbe divertente? Oh no non hai proprio capito Un albero di Natale Non è fatto per arrampicarci sopra Oh accidenti Non capisce proprio niente Oh no 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 Sì oh hai ragione Bene allora Andiamo a guardare di là E cosa non dici di questo? Questo è davvero bello grande Così potete mettere tanti regali sotto Ok Ma così grande Come albero di Natale? Non è male Ci sanno davvero tanti regali sotto Ma come farei a portarlo in casa? No ma poi No 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 Non sarebbe bene Peccato era davvero bello Se noi dovessimo Avessimo avuto bisogno di un albero Avremmo preso questo Cosa? Ne avete già uno? Oh non è possibile Siamo andando per gli ultimi Oh Guarda quell'albero Sembra proprio più carino Julius Julius Deve essere quello Deve essere quello Deve essere il perfetto Lo vedo lo vedo Guardalo Cosa le dici? Non è fantastico Fantastico? Oh Ok ok Ti aiuto Cosa devo fare? Allora Io lo seguo ok E se cade Tu devi Devi prenderlo Ok ok Ci penso io Vai Incomincia Ce l'hai ce l'hai? Si si Oh che facile che è stato Ora dobbiamo Trascinarlo E Portarlo a casa Oh Chissà come saranno contenti a casa E va a passare Gorgoglioso di me E poi potrà guardare la partita E non dovrà prendere l'albero E papà Sono tornato Ho portato qualcosa Guarda Guarda il signore Cosa avete? Julian? Mi sta prendendo il giro E non mi dire che avete qualcosa No Ma ma cosa? Cosa? Non è possibile? Julian? Cosa hai fatto? Julian? Come hai fatto? Come hai fatto a comprarti questo Questo coso? Oh Non dirmi che l'hai tolto Dal bosco Non si può Sì Posso farlo Insomma l'ho fatto L'ho segato via Dovrei essere un boscaiolo Oh Julian Era proprio tipico da Julian Non si può fare Si comprano Non si può Semplicemente andare nel bosco E tagliarli Non si può fare Eh papà 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 Ma come avrei dovuto saperlo Insomma E cosa te ne fai Delle seghe che hai in garage Se non tagliare alberi Oh Julian Non è possibile Hai sempre di quale idee Ma dove ti compri Dove ti prendi queste cose Ok Va bene Ok Ora che l'abbiamo uno Ok Ora